Ciao amici, oggi a grande richiesta approfondiamo come tracciare i propri investimenti in ambito cripto. In realtà è una questione che porta avanti da un po' di tempo. All'interno di questo video vi ho raccontato come sia stata proprio una mia priorità del mese di novembre 2021, tracciare tutti i miei investimenti. Infatti se fino a qualche anno fa il mondo cripto era appannaggio di pochi, appannaggio di una nicchia di persone, di nerdoni soprattutto, oggi invece diciamo che siamo ancora lontani dalla mass adoption, ma stiamo facendo dei notevoli passi avanti. E quindi all'interno di questo video andremo a vedere quali sono gli strumenti che io personalmente uso ora in questo momento per tracciare i miei investimenti nel mondo delle criptovalute. E attenzione, voglio rispondervi subito in anticipo a una domanda che sicuramente mi farete. Sono i migliori strumenti per tracciare? No, amici, perché ci sono vari motivi. Sicuramente ci sono degli strumenti che nasceranno, che saranno migliori, degli strumenti magari che nemmeno conosco e che quindi vi chiedo tra l'altro di lasciarmi nei commenti. Se ci sono degli strumenti che voi ritenete particolarmente interessanti, scrivetemeli, che li prendo in considerazione, li vado a vedere se non li conosco e quindi poi nel caso so aggiornarvi. Ma soprattutto abbiamo esigenze differenti. Io ho esigenze di tracciare alcuni tipi di investimenti, un'altra persona ha esigenze differenti. Quindi a seconda di questo io vi presento i miei strumenti, ma ognuno poi potrà farsi il proprio set, il proprio kit per monitorare le proprie criptovalute. E ve lo ripeto, se avete dei consigli da darmi, benvengano, se avete delle domande, se avete dei commenti da fare, scriveteli come sempre qua sotto. Sapete bene quanto sia complicato stare aggiornati sul mondo delle criptovalute. Io provo a fare del mio meglio, puoi trovare i miei contenuti iscrivendoti qui sotto al canale, se vuoi anche attivando la campanellina per ricevere la notifica quando esce un nuovo video, e se vuoi anche entrando all'interno del canale Telegram dove giorno per giorno pubblico contenuti un pochino più freschi. E adesso iniziamo. Per prima cosa è opportuno capire come mai ha senso tracciare il proprio portafoglio, e le questioni sono essenzialmente due. La prima è sicuramente legata al discorso di sapere che cosa ho e soprattutto dove lo ho. Infatti i progetti sono tanti, gli exchange sono tanti, le piattaforme sono tantissime, tanto che alle volte uno si può anche dimenticare di avere dei soldi, delle valute investite in alcuni progetti. E inoltre conoscere e visualizzare il proprio portafoglio in un'unica schermata permette di riuscire a bilanciarlo e a gestirlo molto più facilmente. La seconda questione che è salita alla ribalta nel corso degli anni 2020-2021, ma sicuramente sarà un grande must dei prossimi anni, è la tracciatura del portafoglio per una questione fiscale. Infatti nel momento in cui registro questo video, dicembre 2021, l'agenzia delle entrate, anche se con qualche zona d'ombra, ha comunque definito alcuni aspetti dell'imposizione fiscale sulle criptovalute e soprattutto sulle plusvalenze. A questo punto, amici, vi prego di non riempire questo video di commenti del tipo «Ciao, come bisogna pagare le tasse?» oppure «Io non ho capito se devo pagare le tasse, visto che ho 52.818 euro e sono stato in vacanza alle Caymane», oppure domande del tipo «Ciao, mi chiamo Giuseppe, ma faccio dei cognomi Bitcoin, devo pagare le tasse?» Non lo so, assolutamente. Non sono io la persona giusta a cui chiedere. O meglio, io mi informo tramite Carlo Alberto Micheli, dottore commercialista, di cui vi lascio il link al suo canale, ma per il resto non risponderò mai, davvero mai, a domande di questo tipo. E giusto per ribadirlo, in questo video voglio vedere come tenere traccia del portafoglio, che è già un'operazione non basilare, abbastanza avanzata. Dopodiché, pagare le tasse è un'altra questione e non la vedremo all'interno di questo video. Che poi, amici, ad ora che registro non esistono ancora delle leggi. Esistono solamente degli interpelli fatti all'Agenzia delle Entrate, che risponde assimilando le plusvalenze su criptovalute a valori su cui si paga la stessa aliquota delle plusvalenze da investimento. Quindi, ancora una roba un pochino fumosa, ma allo stesso tempo, negli altri stati d'Europa, si sono organizzate in maniera differente. Quindi, c'è un casino incredibile, andiamo per ora a monitorare il portafoglio, tutte le nostre criptovalute e poi, successivamente, pensiamo a pagare le tasse. Bene, a questo punto, prima di entrare all'interno degli applicativi che ci permettono di effettivamente fare le cose, cioè tracciare i portafogli, vediamo alcune note metodologiche. Il primo punto è assolutamente l'attenzione alla sicurezza. Detto questo, potremmo anche terminare questo capitoletto, ma insomma cerchiamo di approfondirlo un po' di più. Nel mondo tradizionale, nel mondo della finanza classica, i nostri conti sono tutelati da intermediari. Infatti, le banche sono gli intermediari che tengono al sicuro le nostre valute e dovrebbero anche tenere al sicuro la nostra privacy, almeno in teoria. Nel mondo cripto, i portafogli invece sono pubblici, per cui se riveli l'indirizzo del tuo portafoglio, chiunque può associare a te le transazioni che ha fatto quel portafoglio, quel wallet. E non è una questione di segreti, cose un po' losche, smafiatelle, è una questione di privacy. Nessuno di noi solitamente va in giro dicendo quanto ha in banca, giusto? Bene, allora perché dovremmo farlo con i nostri wallet, con i nostri indirizzi di criptovalute? Il secondo punto è legato ai tipi di portafogli che vogliamo tracciare. Infatti, possiamo classificarli in tre tipi di categorie. La prima categoria sono i nostri fondi all'interno di exchange centralizzati. La seconda categoria, diciamo che è una sottocategoria della prima, e sono i nostri fondi all'interno di exchange centralizzati, ma chiamiamoli poco collaborativi. E diciamo che questa sezione è popolata, almeno nella mia esperienza, da una sola applicazione, che è l'applicazione per smartphone di Crypto.com. La terza categoria, invece, sono i wallet per lavorare all'interno della DeFi, per esempio Metamask, per esempio TerraStation, Ledger, Trezor e tutti quelli di questa tipologia. Bene, attualmente per ognuna di queste categorie dobbiamo lavorare in una maniera un pochino differente. E quindi, forti di questi due punti, quello sulla sicurezza e quello sulle tre categorie, vediamo un paio di indicazioni utili. Uno, consiglio vivamente di usare il computer per monitorare tutte le vostre criptovalute, o meglio, finché usate solo exchange centralizzati c'è poco problema, ma nel momento in cui iniziate ad usare DeFi Wallet, iniziate ad usare protocolli tipo diverso, appunto, del mondo DeFi, ragazzi, la smartphone diventa veramente un casotto. Secondo consiglio, questo più che un consiglio credo che sia un obbligo, non rivelate mai a nessuno la vostra seed phrase. Ci sono dei simpatici programmi che ti dicono, per monitorare meglio il tuo portafoglio, devo avere la sua seed phrase, ossia devo avere accesso totale e incondizionato al tuo portafoglio. Bene, questi programmi solitamente non è che solo tracciano, ma soprattutto portano via tutte le valute che sono all'interno del vostro portafoglio. Quindi ancora una volta vi ricordo che la seed phrase, amici, non si dà mai a nessuno. A questo punto vediamo come tracciare i nostri valori su exchange centralizzati. In realtà questa parte è piuttosto semplice, perché fortunatamente gli exchange centralizzati hanno delle funzioni che ci permettono di fare delle operazioni automatiche. Queste funzioni si chiamano API, esattamente come quelle del miele, in questo caso queste funzioni non fanno miele, ma eseguono delle richieste. Bene, su tutti gli exchange centralizzati possiamo andare a richiedere le credenziali per usare le API sul nostro account. E fra pochissimo andiamo a vedere come farlo su un exchange in particolare, prendiamo ad esempio Binance. Dall'altra parte invece dobbiamo avere un programma che sa come utilizzare le API, sa fare le giuste richieste e soprattutto sa farci vedere come è composto il nostro portafoglio. Quindi prima di capire come creare le credenziali per le API di Binance, cerchiamo di capire qual è poi un buon programma per visualizzare il portafoglio. E partiamo col dire che ce ne sono molti, sono sia piattaforme online che piattaforme offline. In questo momento quello che mi sembra avere caratteristiche migliori si chiama Atani. Atani è gratuito, si può usare sia da smartphone che da computer, e per scelta gli sviluppatori non hanno creato un'interfaccia web. E questa è un'ottima notizia per la nostra sicurezza, perché una consistente parte dei furti che viene fatta via web sono possibili grazie ai cookie nei nostri browser. Quindi Atani che fa? Esclude i browser e quindi si garantisce una maggiore sicurezza. A tutto questo, giusto per aumentare ancora la sicurezza, si aggiunge che su Atani le chiavi delle API, quindi le credenziali per accedere poi a tutti i vari exchange, non vengono salvate su alcun server. E in più, per recuperare il proprio account, per accedere al proprio account, hanno creato un meccanismo che è molto simile alla seed phrase dei nostri DeFi wallet. Quindi è per questo che ho scelto Atani per monitorare il mio portafoglio, perché mi sembra di gran lunga il programma più sicuro, e non salva sui propri server dei dati che potenzialmente, se rubati, potrebbero mettermi in difficoltà, potrebbero rivelare delle mie informazioni private. Detto questo, andiamo su Binance, creiamo le nostre credenziali API, e poi sincronizziamo Binance con Atani. Bene amici, benvenuti all'interno di Binance.com, che è in questo momento il più grande exchange al mondo. Per gestire le API di Binance andiamo all'interno dell'icona qui con l'omino, come vedete questo è il mio account, andiamo qua in fondo e facciamo gestione API. Quindi arriviamo nella pagina chiave API creata, invece di mettere qui l'etichetta andiamo a creare Crea API per report fiscali. Come vedete qui c'è questa indicazione che ci interessa molto, quindi clicchiamo qui e procediamo, andiamo avanti. In questo momento, prima di procedere, ci chiede l'autentificazione sia col numero di telefono, sia con la mail, sia con il codice di Binance Google Authenticator, quindi vedete questa è tutta l'enorme sicurezza che Binance mette all'interno delle proprie modalità, dei propri processi. Quindi inseriamo i codici, eccoci qua. Dunque la mia API è stata creata, è un API che come vedete è abilitata solamente in lettura. Dunque io in questo momento andrò a copiare questi due, chiaramente vedete in questo momento pixelati, perché non posso rivelarvi le API che uso per l'appunto per gestire il report del mio conto, ma copiando API Key e Secret Key, andandole a mettere all'interno di Atani, vedrete che Atani inizierà a tracciare il vostro portafoglio, tutto il vostro wallet di Binance, con la sicurezza che questa è un API solo in lettura, quindi non potrà fare operazione di trading, operazione di exchange, nessuna operazione di fatto commerciale che vada a scambiare token. A questo punto andiamo all'interno di Atani e vediamo come impostare l'API Key. Eccoci quindi all'interno di Atani, andiamo nella sezione exchanges e andiamo a cliccare in questo caso Binance. Quindi ho scollegato tutti i miei exchange, così da ripartire da capo, e in questo momento vedete che possiamo lavorare con le API di Binance, connect your exchange, quindi andiamo a prendere le API di Binance, le copiamo qua dentro e vedrete a breve cosa succede, faccio con net exchange, a breve mi darà, quindi la conferma che tutto questo è successo, è andato bene, quindi Binance confirmed, e a questo punto, come vedete, qua in cima, Binance è andato nella sezione trading and portfolio. Quindi, se io adesso vado all'interno della mia sezione portfolio, posso vedere tutto quello che è all'interno del mio portafoglio, quindi a partire da BNB, Matic, DOT, ADA di Cardano, Link di Chainlink, quindi tutto quello che è all'interno del mio portafoglio e posso vedere anche una rappresentazione grafica di tutti, di tutte le mie valute all'interno di Binance. Bene, questo, in questo modo abbiamo collegato Binance, ma come vedete è molto semplice collegare anche tutti quegli altri, Bitfinex, Bitstamp, Coinbase Pro, Huobi, Kraken, Kucoin, Bbox, Gaitio, Gemini, tutti quanti, ok? Quindi ci sono veramente tanti, l'unico, diciamo che, di quelli più famosi che manca all'interno di questo elenco è forse Crypto.com Exchange, quindi attenzione, non l'applicazione da smartphone, di cui ci occuperemo fra poco, ma l'Exchange. Quindi questo è il modo con cui utilizzare Atani, abbiamo visto come collegare gli Exchange. Bene, passiamo adesso a capire come sincronizzare un portafoglio centralizzato, ma che collabora un pochino meno rispetto agli Exchange centralizzati. E come vi dicevo già prima all'interno di questa categoria, io per ora ho una applicazione, ed è Crypto.com, appunto da smartphone. Attenzione, lo ribadisco per chiarezza, non è l'Exchange centralizzato di Crypto.com, che ha le sue API, anche se attualmente non sono supportate da Atani, ma questo è un altro problema, ma parliamo proprio dell'applicazione da smartphone. In questo caso, l'applicazione non fornisce delle API, quindi non possiamo interfacciarci dall'esterno, quindi l'unica cosa che possiamo fare è fare un download con file CSV, che sarebbe un file di codifica molto molto semplice, possiamo scaricare tutte le nostre transazioni, sia del Fiat Wallet, sia del conto in generale, sia del Crypto Wallet, e portarle su un altro software per visualizzarle meglio. Andiamo dunque all'interno dell'applicazione, andiamo dentro la sezione Conti, e qua in alto a destra, clicchiamo il pulsante con l'orologino e il dollaro. Quindi andiamo qua dentro e vediamo che c'è tutto lo storico delle transazioni. Clicchiamo ancora una volta in alto a destra e come vedete viene fuori una pagina con scritto storico transazioni. A questo punto noi possiamo dire di esportare i dati dal Crypto Wallet, come vedete possiamo scegliere Crypto Wallet, Fiat Wallet o Cartavisa Crypto.com, e possiamo dirgli una data di inizio e una data di fine. Per esempio in questo caso possiamo dirgli primo gennaio 2021 e possiamo mettere come data di fine, oggi che registro questo video, che è il 13 dicembre 2021. A questo punto posso cliccare Esporta in CSV e come vedete accanto nella sezione Esporta storico viene generato un report. In questo caso vedete che il 13 dicembre 2021 è stato generato un report della carta, io posso scaricarlo e posso andarlo poi a condividere per esempio sul mio computer dove posso usare poi un'altra applicazione che vediamo fra un attimo per elaborare meglio questo documento. A questo punto ecco che abbiamo il file CSV sul computer e possiamo usare un programma per esempio CoinStats per fare un check più avanzato. Perché scelgo CoinStats? Scelgo CoinStats perché per ora, per quello che ho visto, è l'unico che prende direttamente il file CSV da Crypto.com, lo importa e lo elabora completamente in autonomia. E però c'è un problema abbastanza grosso. Cioè CoinStats è vero che importa il file ma all'interno della sua visualizzazione, della sua dashboard, non mi fa vedere quanti CRO ho nel mio wallet, il che è un bel problema. Beh, dovrebbe essere scontato che ci sia ti importo il CSV derivante dal portafoglio di Crypto.com, mi aspetto che i CRO siano visualizzati. L'altra soluzione invece è di trovarlo direttamente dall'applicazione di Crypto.com. Purtroppo sappiamo bene che non offre grandi strumenti di analytics, grandi strumenti per vedere lo storico del portafoglio. Si fa quel che si può e questa per ora è la migliore soluzione che capisco bene non essere una grande soluzione ma purtroppo è un caso isolato, è un'unica applicazione che permette, diciamo che non permette, di essere interrogata tramite API. Diciamo che ancora non ho trovato una soluzione migliore. Passiamo adesso ai metodi per tracciare portafogli e progetti e protocolli all'interno del mondo DeFi. Teoricamente qui il compito è più semplice, servirebbe un programma che tu gli dai un indirizzo di un wallet e lui scandaglia automaticamente l'indirizzo su tutte le reti, su tutti i protocolli e ti dice che cosa ha trovato. Facile a dirsi e un pochino più complicato a farsi. Ce ne sono vari di programmi che fanno questo lavoro, io ho deciso di lasciarvene due, quelli che a mio parere sono i più intuitivi, i più sicuri e i più completi. Il primo tracker per wallet DeFi si chiama Zapper.fi. Zapper nel corso del tempo si è guadagnato una bella fiducia perché a quanto dice lo sviluppatore non vengono tracciati gli indirizzi P dei computer che si collegano per cui il servizio è più anonimo e per questo la sicurezza in generale aumenta. Detto questo, andiamo a vedere come funziona. Eccoci amici, all'interno di Zapper.fi cosa possiamo fare con questo applicativo? Possiamo andare a monitorare wallet e a creare degli assemblati di wallet per monitorarne più di uno insieme. Andiamo a vedere prima di tutto come si monitora un wallet e poi come si mettono insieme. Ho copiato un indirizzo di un wallet che ho appena creato all'interno del quale però non c'è nulla. Quindi eccolo qui, lo vado a cercare. Come vedete, Zapper mi risponde con tutto quello che c'è all'interno del portafoglio, ossia nulla. Però la cosa interessante è che se ci fosse qualcosa qui sotto, in questa parte di schermata inferiore, vedreste effettivamente tutte le criptovalute, tutti gli investimenti che sono presenti in queste nove blockchain. Arbitrum, Avalanche, BSC, Cielo, Ethereum, Phantom, Harmony e Optimism. Ok? Chiaramente si possono anche aggiungere o togliere, per esempio, se non mi interessa controllare Cielo, la tolgo così. Il programma fa anche prima a monitorare perché non si occuperà, non perderà risorse a controllare sulla blockchain di Cielo, per esempio. Abbiamo anche gli NFT, abbiamo anche tutta la storia completa di questo portafoglio, quindi tutti gli scambi che sono stati fatti da e per questo portafoglio. Possiamo però passare alla funzione aggiuntiva di cui vi parlavo, per esempio, quindi andiamo su connetti portafoglio, connettiamo con Metamask questo indirizzo che inizia con 0x9d80 e poi continua con tutta la cifra del wallet e cosa possiamo dirgli? Andiamo qui e possiamo dirgli di inserirlo all'interno del mio set di portafoglio. Infatti io ho tre indirizzi che monitoro tramite zapper.fi e in questo caso ci ho aggiunto il quarto che all'interno del quale non c'è dentro nulla però posso tranquillamente monitorarlo perché se in futuro poi lo volessi usare così ho già il monitoraggio pronto e fatto. Per vedere tutti i portafogli insieme vado all'interno di dashboard quindi il pulsante qua di lato e se vedete da una parte ho 0x9d che sarebbe il portafoglio singolo dall'altra posso scegliere invece di visualizzare tutto il portafoglio quindi eccoci qua dalla visualizzazione posso scegliere di visualizzare tutto il portafoglio e come vedete qua ho una pixelata però ho una lista di tutte le transazioni che sono state fatte in realtà in questo caso di tutte le valute che sono all'interno del mio portafoglio oppure degli NFT che sono all'interno del mio portafoglio in questo caso ce ne sono due non li vedete ma ce ne sono due oppure della storia di tutte le transazioni di nuovo da e per il mio portafoglio anzi per questo blocco di portafogli di questi quattro indirizzi che ho indicato questo è il funzionamento di zapper.fi come abbiamo già detto la problematica principale legata a zapper.fi non è che funziona male funziona benissimo ma la problematica è che è legato a queste nuove blockchain e in questo momento non sono stati fatti ulteriori upgrade per supportarne dalle altre quindi diciamo che per fare un check su queste nuove blockchain va benissimo è super consigliato per cercare altre blockchain per ora nel momento in cui registro questo video che è dicembre 2021 purtroppo non è ancora possibile se funziona così bene perché andiamo a vedere anche un secondo tracker beh prima di tutto perché a parità di funzionalità ognuno può trovarsi meglio col primo o col secondo programma ma in seconda battuta in realtà è la cosa fondamentale è perché alcune blockchain non sono supportate su zapper.fi e alcune blockchain non sono supportate invece su questo secondo applicativo che andiamo a vedere adesso una fra tutte per esempio è Terra di cui abbiamo parlato in questo video e che è una delle più promettenti per il futuro non viene tracciata da zapper ma viene invece tracciata da Apeboard che è sicuramente uno dei migliori tracker DeFi che esistano e adesso andiamo a vederlo eccoci dunque all'interno della schermata di Apeboard questa è la dashboard la dashboard principale la schermata sulla quale entriamo allora la prima cosa che vediamo sono le blockchain supportate Ethereum BSC Terra molto interessante è uno dei motivi principali per cui uso Apeboard dot finance anche Kronos è una blockchain estremamente interessante che non viene tracciata da altre parti quindi ringraziamo Apeboard per fare questo gran servizio come si lavora su Apeboard andiamo all'interno di address mettiamo l'indirizzo che vogliamo monitorare facciamo go e come vedete ci viene dato il valore all'interno del wallet come vedete in questo caso ci viene anche fatto vedere che la location è tutta su un'unica blockchain ossia tutto su Avax infatti ho preso un portafoglio in particolare di un progetto abbastanza specifico che poi voglio anche far rivedere magari in un altro contenuto quindi all'interno della chain allocation vediamo che è tutto su Avax e che il valore totale è 102 dollari non abbiamo niente da clemmare quindi non abbiamo niente da riscuotere diciamo come interesse bene scendendo andiamo a vedere che c'è anche l'esploso del portafoglio quindi abbiamo 81,26% di memo e il 18,74% di Avax e cliccando view all se ci fossero più cose in realtà potremmo vederle in maniera in maniera migliore e possiamo vedere anche il valore oltre che la percentuale anche il valore effettivo quindi la percentuale calcolata sul totale del portafoglio interessante che possiamo dividere anche per tipo di blockchain quindi all chiaramente prende tutte le blockchain però possiamo anche solo vedere quello che c'è su terra per esempio e su terra non c'è nulla quindi è difficile diciamo è difficile avere dei risultati però mettendo su Avalanche ecco il risultato è lo stesso però come vedete va a togliere quello che non è del mondo Avax ok o almeno lo mette in others per essere per essere più specifico mentre all'interno di all tende a far restare per far restare più più criptovalute di qua a destra invece vediamo la stallocation vediamo che il 18 il 81,26% che sono esattamente i memo sono su wonderland mentre il 18,74% che è la rimanente parte sono all'interno del wallet quindi questo cosa mi dice mi dice che questi wonderland sono esattamente in uno smart contract legato a wonderland che è un progetto particolarmente buffo mentre il resto la rimanente parte è all'interno del wallet andando qui sotto ancora una volta abbiamo un altro spaccato sia del wallet che di wonderland perché me lo mette più volte beh perché questo appunto è un esploso con un grafico che mi aiuta molto velocemente a capire a vedere graficamente qua sotto invece me li mette proprio wallet per wallet o protocollo per un protocollo se avessi come chiaramente faccio io invito anche a fare te se avessi molti indirizzi monitorati con tante coin all'interno con partecipazione in tanti progetti differenti è chiaro che avrei una di queste una di queste sezioni per ognuno dei progetti a cui sto dedicando dei soldi ognuno degli smart contract all'interno dei quali sto lasciando dei soldi oppure tutti i wallet che sto monitorando vedete che monitora questo tipo di indirizzo su tutte le blockchain e io a questo punto posso fare anche save profile ok e metto per esempio portafoglio di Bernardo ok cliccando così ho creato il mio portafoglio e come vedete a questo punto posso andare ad aggiungere anche altre andando all'interno di profile quindi la sezione profile qui di lato posso andare cliccare edit e a questo punto fare add a wallet posso scegliere su quale blockchain voglio monitorarlo per esempio che ne so scelgo phantom vado qua sotto metto address ci metto un altro indirizzo esattamente come avevamo fatto prima faccio add e l'indirizzo verrà effettivamente aggiunto e inizierà il monitoraggio di entrambi gli indirizzi posso metterne quanti ne voglio quindi non c'è un limite posso monitorarne quante me ne pare andando poi ritornando nella dashboard quindi cliccando qui il secondo pulsante torno e posso vedere tutto quello che è presente in questo caso non ho aggiunto niente di più di prima quindi siamo rimasti esattamente al valore che vedevamo prima bene guardando di lato abbiamo anche la nft gallery quindi esattamente come vedevamo su zapper.fi vediamo che se avessimo degli nft all'interno di questo wallet apparirebbero qui e andiamo a vedere poi questa sezione protocols all'interno di protocols sono presenti tutti i protocolli supportati da app e board quindi sono veramente tanti all'interno di tante blockchain ethereum bsc terra importante solana polygon binance ronin avax phantom arbitrum cosmos harmony boba chronos elrond ok quindi non sono tutte le blockchain di questo mondo perché di blockchain ce ne sono veramente tante e più si va avanti più se ne creeranno altre ma app e board in questo momento offre il supporto per 183 protocolli di tipo diverso che è veramente un supporto piuttosto interessante quindi alcune blockchain le troviamo solamente su zapper.fi alcune le troviamo solamente su app e board ma messi insieme questi due strumenti danno una copertura abbastanza importante per quanto riguarda tutte le blockchain e tutti i protocolli possibili non voglio scordarmi però di farvi vedere un'ultima funzione interessante torniamo all'interno di dashboard e vediamo che c'è un pulsante export cliccando questo pulsante export io posso esportare i dati relativi al wallet o alle posizioni quindi vediamo entrambi i due tipi di dati che vengono esportati in questo caso esportiamo prima i dati relativi al wallet clicchiamo export come vedete qua è andato in download e ora andiamo ad aprirli e poi i dati relativi a positions e anche quelli sono andati in download quindi a questo punto apriamo le due posizioni apriamo i due file come vedete uno è relativo ad avax wonderland quindi i memo che sono depositati insomma che vedevamo prima che sono depositati all'interno di wonderland che è questo questo protocollo di cui parleremo e li vedete qua sono 0.018172662 memo ok che hanno un equivalente valore di 83.59 dollari mentre all'altra parte abbiamo avax e come vedete abbiamo 19,25 dollari per un balance di 0,2285 e compagnia ok quindi questi due file sono l'export di app e board di tutto quello di tutti i portafogli che sta monitorando in questo momento app e board quindi funziona interessante per capire che cosa abbiamo e dove l'abbiamo se la valuta non è all'interno del nostro wallet ma appunto è depositata in smart contract in altri protocolli bene a questo punto facciamo un riepilogo veloce per exchange centralizzati a Tani a mio parere è veramente il migliore mancano alcuni exchange per esempio crypto.com non l'applicazione ma exchange mi raccomando ma l'applicativo funziona veramente bene e i livelli di sicurezza sono parecchio alti e questo ci piace molto per crypto.com applicazione da smartphone abbiamo visto coin stats non mi piace assolutamente come tutto questo accrocchio ma per ora è la migliore soluzione che ho trovato vi ricordo che se avete soluzioni migliori ditemelo per favore perché sono veramente alla ricerca di un modo migliore per tracciare il portafoglio di crypto.com mentre per la DeFi abbiamo visto zapper.fi oppure app e board a questo punto vi ricordo velocemente che cosa voglio fare per il futuro e che cosa spero per il futuro per migliorare il tracciamento delle criptovalute uno la prima cosa che secondo me manca da tutte le parti è un grafico che mostra in maniera molto semplice i valori giorno per giorno la funzione che immagino non mi sembra molto complicata poi magari mi sbaglio però non mi sembra complicata ossia io scelgo una data e in quella data mi fa vedere qual era il valore del mio portafoglio secondo tutti gli input che ha quindi se gli ho dato dentro Binance Bitstamp e KuCoin lui alla data del 10 di dicembre mi fa vedere qual era il valore del mio portafoglio ma stessa cosa anche per il mondo DeFi quindi gli do una lista di indirizzi e gli chiedo mi dice qual era il valore al 10 dicembre 2021 secondo tutti gli indirizzi che ti ho dato seconda cosa spero che Atani includa il tracciamento del DeFi wallet su tutte le blockchain sarebbe veramente spettacolare si mixerebbero la grande funzionalità e la grande sicurezza del programma con anche il mondo DeFi e quindi sarebbe una combo veramente utile terza cosa sperare che Crypto.com da smartphone prima o poi rilasci delle API per tracciare il portafoglio velocemente esattamente come si può fare con tutti gli exchange anche se questo devo dire la verità mi ce la vedo un po' dura per come è stata concepita l'applicazione conclusioni amici questo è lo stato attuale con cui riesco a monitorare e a bilanciare al meglio il mio portafoglio ve lo ripeto se avete maniare migliori programmi che non ho preso in considerazione oppure proprio modalità che non ho nemmeno pensato per favore scrivetemelo io sarò super felice super contento di provare tutti i programmi che mi dite e di aggiornare i miei metodi quello che mi interessa chiaramente è ottimizzare la visualizzazione e di conseguenza anche l'eventuale calcolo della tassazione da pagare e vi ricordo giusto perché voglio essere sicuro che non facciate pasticci che quella che vi dà a Tani è una preview di quello che dovrebbero essere le tasse da pagare ma per favore fidatevi il giusto cioè si fidatevi ma fatevi dare anche un riscontro da un professionista per compilare le vostre dichiarazioni e cose collegate perché il programma può fare un errore e non gliene frega nulla al programma mentre se voi fate un errore poi il fisco viene a chiedervi i danni se questo video ti è piaciuto se ti ha dato dei buoni spunti o se banalmente vuoi sostenere il mio progetto ti prego di lasciare un bel pollicione in alto e di iscriverti qui sotto al canale YouTube e se vuoi di entrare anche all'interno del mio canale Telegram dove ogni giorno do delle notizie un pochino più fresche ti ringrazio per aver visto questo video Ciao!